buono no scusno 3 allora parlo per la taglia sui senso quando il controllo un attimo che se va il figlio di onde qua sono tutti cambiati sono sempre aggiornato questo mondo questo è lentissimo lo lasciamo qua ho 502 ali nel concentro campista mi dicono che si sentono entrambe le voci forse siamo riusciti a risolvere il problema in tutte le altre partite sentiva solo la voce di chi lo sta perfetto c'è Giorgio che ci sta guardando il Giorgio? ciao Giorgio gli hai fatto lo scherzone prima giornata lui adesso sta macinando punti su punti sta ammazzando tutti quanti oggi ha vinto la partita 5 a 2 oggi per la telecronaca di questo match prima partita buona partita bella anche te e via qui ovviamente tutte vogliono partire c'è una differenza di velocità fra le modalità già pubblica e test ah tra tutte queste voglia eh si non ti lamentare no eh noi iniziamo a fare ste cose boom spreni che nome il loro comodo in aria senza che nessuno li disturbasse atteggiamento che denota una scarsa concentrazione tanti giocatori famosi eh si c'è quei tre lì e basta occhio al tocco preciso per servire il compagno occasione d'oro eh niente vai a segnare tranquillo i difensori hanno lasciato libero si si la sua deve essere davanti fortissimissimi si davanti si come le squadre americane che davanti sono devastanti dai noi facciamo un calcio tedesco duro palla spazzata via azione che sfuma pulca continua ad avanzare ci riprova Oscar conquistano una buona posizione da posizione interessante vedremo se proverà a calciare direttamente in porta panico attenzione a Hulk la barriera salta e intercetta ok barriera c'è stata la deviazione providenziale e sarà dunque corner occhio al cross in mezzo girata di testa che è uscita di poco ha esagerato con la torsione quel tanto che è bastato per sperirla fuori parlerei più di sfortuna qui che di imprecisione l'aveva impattata bene palla larga ottima visione di gioco qui a campo a disposizione palla riconquistata con uno occhio da lì vabbè impossibile mamma mia impossibile preziosita da questi tre gol la difesa è in posizione la rinforzata barriera il pallone della gara dopo questa splendida tripletta sta l'interamente facendo ammattire difensori ora ci hanno capito davvero poco regala qui il pallone si devono fare due passaggi giusti regalano palla agli avversari pallone interessante cerca il tocco profondo per Oscar non si lascia sorprendere qui il portiere apre profondo per il compagno salta l'uomo attenzione difesa in difficoltà difesa che recupera facilmente su questo cross palla messa fuori dal difensore si riparte con una rimessa laterale palla persa arnautovic 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 può metterla in mezzo non si fa alza giocata di qualità per intercettare il pallone Oscar Oscar c'è la prateria per andare eh va bene ha salvato il gol certo è andata bene tirato di gesto decisivo quel potere è rimasto lucido fino all'ultimo gioco a portare spiega netta la posizione di offside collins prova a giocare sulle fasce è un giro palla quasi ipnotico questo entrata decisa possono ripartire in contropiere gol giusto nel contropiere perfetto meno male meno un gol si non voluto stare tanto comunque la rigore perciò non è che siamo 3 a 1 se andavo più cattivo era all'interessante dello spazio no qui davanti puoi fare ancora tutto da dire taglia fuori bene qui la difesa con l'Action eh te lo faccio fare io dai lancio fuori misura palla recuperata senza problemi fa sua la palla con un intervento duro ma regolare occhio al contropiere i miei difensori tutti sono e c'è il gol è 3 a 2 perché si sta profilando la rimonta possibile adesso avrebbero il clamoroso e Hulk è una bella bomba lì forse siamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2 Arbitro che ferma il gioco si chiude il primo tempo 3 a 2 fin qui ha giocato davvero bene nei primi 45 vedremo se si ripeterà sugli stessi livelli è stato il protagonista assoluto del match fin qui con una fantastica tripletta che consente alla sua squadra di condurre al mio si è dopata all'inizio nei primi 20 minuti e ne ha fatti tra è tutto pronto sbreni apprezzabile questo pallone pallone invitante andare uno contro uno col portiere si porta la più due con questo gol un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta hanno un discreto vantaggio da gestire questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri da fare la prima mossa risultato adesso sul 4 a 2 può sfruttare lo spazio lungo la corsia e fermati palla vagante un'altra buona giocata occhio alla ripartenza fuori gioco di un anno con questa palla punta la porta tutto fermo e upside ha fatto il passaggio all'altro giocatore invece che a lui ah a spazio e davanti a sé guarda se ne avuto giusto ci volevo quello dietro da due secoli ma dai vabbè grande apertura